Ed eccoci qua quindi con Samsung Galaxy Z Fold 3, il nuovo pieghevole di Samsung che passa da un formato stretto e lungo Candy Bar 1 più ampio in modalità tablet, la terza generazione con una serie di belle novità come la fotocamera sotto al display, come l'impermeabilità, come il supporto alla S Pen. Parleremo di tutto all'interno del video, il mio invito è ancora una volta, se non l'avete mai fatto, a iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche perché altri video sulle novità Samsung arriveranno nelle prossime settimane e adesso non mi resta che iniziare. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, anche se definire questo unboxing bello è un po' difficile perché all'interno della confezione c'è solo questa scatolina che contiene il cavo USB-C, USB-C. Ma come vi dirò alla fine potrete avere molto di più se preordinerete lo smartphone. Ovviamente quello che dirò non vale per chi andrà a comprarlo eventualmente dopo il 26 di agosto. Ed eccolo qua, quindi Galaxy Z Fold 3 5G, il 5G dove in poi lo metteremo non staremo a ripeterlo ogni volta, giocando al gioco delle differenze e guardandolo così è sostanzialmente uno Z Fold 2. Poi se avete avuto uno Z Fold 2, prendete questo in mano, ci giocate un po' tenendo appunto fra le mani, noterete delle differenze. La cerniera, la cosa che ho notato io di più è la cerniera che è molto più vicina al corpo alle due metà, è quindi un pochino meno preponderante. Lo spessore da aperto è di 6,4 mm, un po' meno rispetto a prima. Il peso complessivo è di 271 grammi, leggermente meno rispetto a prima. Ma ragazzi stiamo comunque parlando di uno smartphone che è spesso e grande, quantomeno non è diventato più grande, quantomeno la direzione è quella giusta, è quella verso uno smartphone un pelino più compatto. Sempre con l'indicazione qui nella cerniera, cerniera in alluminio, tutto lo smartphone è in alluminio, con l'indicazione Samsung. E poi abbiamo tre microfoni, speaker, carellino per doppia sim, tasto di accensione con lettore di impronte digitali, bilanciere del volume e sotto un altro speaker, un altro microfono e la porta USB-C. Sul retro il design cambia leggermente per quanto riguarda il blocco delle fotocamere, che la cosa che mi interessa di più è che è leggermente meno preponderante, fa traballare leggermente meno lo smartphone. Ma soprattutto mi piace moltissimo la nuova finitura opaca, satinata, simile a quella dell'S21 Ultra, molto molto meglio rispetto a quella lucida dello Z Fold 2 nero dell'anno scorso. Ma soprattutto il vetro è un Gorilla Glass Victus, oltretutto l'alluminio è un alluminio più leggero, la cerniera è ancora più rigida e un pochino più compatta come vi ho detto, ma la cosa veramente più sensazionale è che questo smartphone è EPX8, ovvero resistente agli spruzzi, un metro e mezzo sott'acqua, dolce, fino a 30 minuti, uno smartphone da questo punto di vista sorprendente. Io personalmente non ci avrei assolutamente scommesso, sì i rumor c'erano ovviamente, ma prima dell'arrivo dei rumor non avrei mai scommesso su una cosa del genere, anche perché tenete conto che guardate quando aprite lo smartphone ovviamente ci sono delle parti mobili, non potrete mai impedire all'acqua di entrare in questa cerniera, almeno per adesso. La polvere viene bloccata da delle spazzoline all'interno, non è certificato contro la polvere ma sicuramente aiuta, l'acqua può entrare comunque. Ma nonostante questo lo smartphone dentro è perfettamente impermeabilizzato, su Android Word ho scritto un articolo anche abbastanza lungo su come Samsung ha fatto impermeabilizzarlo, ecco andate a vedere quello, non starò a ripetermi qui perché già questa sarà una recensione abbastanza lunga, ma è sicuramente un prodigio della tecnologia secondo me. Andiamo ad aprire lo smartphone? No, anzi no, non apriamo lo smartphone, facciamo che questa notifica la cancello, facciamo che lo smartphone lo metto un attimo qui da parte e vi parlo delle specifiche tecniche. Dove abbiamo un processore Snapdragon 888 octa-core da 2.84 GHz con GPU Adreno 660, 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibili, connettività 5G, Wi-Fi 6E, quindi l'ultimissimo standard, Bluetooth 5.2, quindi anche qui ultimissimo standard. Poi abbiamo l'NFC, abbiamo il dual sim più la e-sim, quindi tre slot ma poi due antenne, quindi solo due funzionano contemporaneamente. USB-C addirittura 3.2, buona la vibrazione, non perfetta, non la migliore in assoluto ma comunque buona. Il lettore di impronte digitali sul fianco funziona bene, io l'ho impostato che sblocca lo smartphone solo al tocco, di base dovete anche premere il tasto ma finché c'è l'opzione chi se ne frega, lo impostate voi come volete, funziona veramente molto bene e tra l'altro ha la comodità che essendo qui funziona ovviamente perfettamente sia a smartphone aperto che a smartphone chiuso. Ovviamente anche qui c'è la compatibilità con l'ultra wideband per esempio per gli Smartac Plus o per tanti altri prodotti che sono in arrivo. Il display, partiamo da quello esterno che è un 6.2 pollici diagonale, ovviamente è stretto e lungo, mi pare che siamo sui 24.5 noni se non sbaglio. Dynamic AMOLED 2x ovvero aggiornato con un refresh rate a 120 Hz e questo vuol dire che lo smartphone ha una sensazione di fluidità molto superiore. Era già a refresh rate aumentato quello interno, adesso lo è anche quello esterno, almeno diciamo corrisponde questa esperienza e l'esperienza d'uso non è peggiore fuori ma migliore dentro. Quindi assolutamente molto bene, è più luminoso rispetto al passato, la risoluzione è di 832x2268 pixel, vi anticipo che l'esperienza d'uso nonostante lo schermo sia appena 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 diverso rispetto all'anno scorso è identica. Assolutamente l'esperienza d'uso è identica ovvero ci si fa il 100% delle operazioni con questo schermo esterno, alcune come per esempio l'utilizzo della tastiera sono ovviamente un pochino meno agevoli. Vi faccio per esempio vedere, ecco qua, se vado a cercare il meteo di Firenze, vabbè sono andato abbastanza bene ma comunque era solo per farvi vedere che la tastiera è ovviamente molto stretta però si riesce tutto sommato a fare quasi qualsiasi operazione, anzi tutte le operazioni, alcune sono ovviamente molto più agevoli con lo schermo aperto. Andiamo quindi a parlare di questo benedetto schermo aperto, vi faccio vedere, colgo l'occasione come funziona la cerniera, vedete che dovete dare una piccola spintarella per far staccare le due parti e poi da circa un angolo come questo, guardate, provo a avvicinarli il più possibile, riesce a rimanere bloccato all'inclinazione che volete voi. È ancora più robusta questa cerniera, vedete potete spingere veramente a qualsiasi angolazione, tenerlo angolato come volete e poi alla fine ovviamente va a schiacciarsi. E se vedete è piatto come non era piatto il modello dell'anno scorso che aveva delle componenti diciamo che si alzavano verso la parte centrale, è una piccolissima differenza ma giusto per i malati di Fold che queste cose le notano. Il display interno è un enorme 7.6 pollici di diagonale con tecnologia anche qui Dynamo AMOLED 2x quindi 120Hz, un pochino più luminoso soprattutto grazie a un'innovazione tecnologica dell'Eco 2 AMOLED di Samsung. Anche qui su Android World ho spiegato meglio che cos'è e perché senza il polarizzatore funziona ancora e permette di migliorare la luminosità del display. Luminosità del display che non è paragonabile a quella del display interno ma devo dire sinceramente all'esterno io l'ho usato anche in questo agosto assolato senza particolari problemi. Non sarà il super display da 1200 nits, non lo è neanche per lontanamente visto che mi pare siamo attorno ai 500 nits ma comunque nonostante tutto, nonostante il luminosità di picco non altissima si riesce veramente a vedere bene. Prendetelo come dato di fatto, provatelo e poi mi direte. Ovviamente ribadisco non è un 1200 nits come altri display ma la cosa veramente sensazionale di questo display e che mi ha convinto nell'istante in cui l'ho provato quando ho fatto l'anteprima è la pellicola. La pellicola protettiva di questo display che è l'80% più resistente dell'anno scorso e questo gli permette, poi lo vedremo fra un attimo, di essere sfruttata anche con una S Pen ma soprattutto la pellicola l'anno scorso era veramente una mezza ciofeca, una mezza schifezza. Trattereva tantissimo le impronte, andava pulita continuamente, io nel mio che avevo comprato l'avevo poi levata con un po' di coraggio e ne avevo messa una delle terze parti e comprata su Amazon perché era veramente terribile. L'esperienza d'uso rovinata, l'avevo messa nei contro l'anno scorso. Questa è decisamente meglio, tutta un'altra esperienza. La piega si vede, lo ribalto verso la luce, ecco che la piega compare. Durante l'utilizzo quotidiano l'esperienza però è questa perché se lo guardate là davanti l'esperienza è questa. Appena lo inclinate un pochino ovviamente i riflessi ecco qua vedete iniziano a fare il loro gioco. Se ci passate il dito si sente una leggera fessura ma ci si fa l'abitudine, nell'utilizzo di tutti i giorni ci si fa assolutamente l'abitudine. 1768x2208 pixel, entrambi i display supportano l'always on. Questo display ha un trucco che voi adesso in questo momento non vedete bene. Provo a farvelo vedere ecco qua avvicinandomi, vedete questa parte che qui lampeggia, in realtà non lampeggia, è un effetto della registrazione della videocamera. Non è affatto così visibile ad occhio nudo, lo si vede sicuramente di più, tadan, quando andiamo ad aprire sfondi che sono chiari. Più chiari sono più si vede, io ribadisco dovete vederlo dal vivo perché l'effetto non è affatto così marcato come si vede in videocamera. Anche perché non sfarfalla, sono i movimenti in base a come è inclinata, vedete, per esempio adesso è visibilissima, per esempio quando scompare è totalmente invisibile. Ero molto prevenuto, non avevo approvato, l'avevo anche detto ai responsabili di Samsung che non mi era piaciuta questa cosa, almeno sulla carta. Devo dire però che nel quotidiano quello che succede poi è che l'occhio si concentra nella parte centrale, in quello che state guardando. E le parti periferiche, diciamo, non sono messe a fuoco dalla vostra vista e l'effetto che si ha è di un video che sia assolutamente, perfettamente visibile e senza interruzioni, senza l'interruzione del foro. Quello che sto cercando di dire è che mi è piaciuto perché comunque, guardate, in questo momento è qui, riuscite a vedere dei contenuti senza l'interruzione di alcun tipo. Questo per esempio è un video di YouTube, quando c'è il nero si riesce a intravedere il forellino, però se voi il fuoco lo mettete sul volto di Mark Brown Lee o sull'escritto o sul resto, questa parte qui vi apparirà come non visibile. Non sto cercando di giustificare Samsung, sono ancora molto triste che questa fotocamera sia una banalissima 4 megapixel, lo vedremo nei sample, però mi sono ricreduto. Su questo fronte devo dire mi sono ricreduto. Avrei preferito forse il foro? Non lo so, non lo so, solo che so solo, forse no, ma 4 megapixel ribadisco che sono pochi. Andiamo oltre, superiamo questa barriera del display e parliamo del software. Software che si potrebbe dire che non è cambiato, ma in realtà è cambiato perché grazie ad alcune introduzioni nel menu Labs si riesce ad avere un'esperienza d'uso che è molto più desktop-like, ma molto più professionale. Ma sì, diciamo, allora, intanto la modalità tablet è attiva di default, lo vedete, le applicazioni che lo supportano, come il calendario, le note, eccetera, eccetera, offrono il menu su due colonne. Ma non solo, ci sono delle funzioni che prima erano presenti solo in Good Lock, adesso sono integrate nel sistema. Vi faccio qualche esempio. Per esempio, eccolo qua, questo è Instagram. Instagram è bene, sì, Instagram tra l'altro ovviamente è ridimensionato perché altrimenti verrebbe visualizzato bene, ma sono riuscito a forzare due comportamenti. Il primo è quello di poter essere affiancato a un'altra applicazione. Ovviamente tutto ciò funziona anche così, no, anzi ovviamente no, proprio perché è proprio la seconda funzione che ho abilitato, ovvero il fatto di forzare la rotazione di alcune applicazioni. L'ho fatto per esempio con Instagram, succede per esempio anche con, non lo so, TikTok, ma finalmente abbiamo un'esperienza d'uso che è decisamente più completa. Sempre possibile aprire fino a tre applicazioni, sempre possibile andare ad aprire anche applicazioni sopra e quindi continuare ad aprire applicazioni su applicazioni per un multitasking sostanzialmente infinito. Possibile creare delle associazioni di applicazioni come per esempio ho fatto qui io. Possibile andare a creare questa, ad applicare questa taskbar. Questa taskbar non è altro che, ve lo faccio vedere sbloccandola, l'ex menu laterale che tenevate qui con le applicazioni preferite. Ora si può andare a bloccare nella barra laterale e questa secondo me è una mezza vittoria. A me è piaciuta tantissimo avere sempre le applicazioni qui a portata di mano. Si integra, devo dire, bene con praticamente tutte le applicazioni. Quando mandate qualcosa fullscreen o aprite un gioco ovviamente questa barra scompare. Se volete altri pannelli, qui c'è il tastino per avere gli altri pannelli sempre a disposizione. Queste sono le ultime app usate, queste sono le applicazioni che andate a decidere voi. Anche se, nota stramba, non è possibile modificare queste applicazioni se non sbloccando la barra, riaprendola, e poi andando qui e facendo modifica. Vabbè, questa è proprio una piccolezza. Cos'altro? C'è sempre, lo andiamo a vedere dalle impostazioni. Nelle impostazioni avanzate c'è veramente di tutto. C'è Dex che funziona sia su desktop, quindi Windows, Mac, sia su TV. C'è la possibilità di mandare delle applicazioni in modalità Flex. Vi faccio vedere, per esempio, qui abbiamo YouTube che adesso è ottimizzato al meglio. Se piegate lo smartphone vedete che si attiva in automatico la modalità Flex. E, cosa interessante, si può forzare la modalità Flex. Con che applicazioni potete forzare la modalità Flex? Io non mi ricordo, mi pare di averla forzata in Chrome. Vediamo se è così, no? Sì, esatto. Si attiva questo pannello. Magari è comodo in applicazioni tipo Netflix, in cui potete quindi da qui regolare il volume, la luminosità, fare screenshot, oppure andare ad aprire il pannello delle notifiche. Ovviamente, oltre alla modalità Flex, rimane la possibilità di aprire un'applicazione una sotto all'altra. Oppure, vi faccio vedere, se andiamo qui a chiudere questo pannello, ovviamente, se aprite la tastiera, questa si va a ottimizzare nella parte inferiore, che sia nella modalità Flex o non sia nella modalità Flex. Varie applicazioni, quelle Microsoft e quelle Google, si sono un po' ottimizzate in più, in meglio per questa modalità. Insomma, l'ho trovato molto più maturo. Tante piccole chicche che me l'hanno fatto apprezzare tantissimo. L'anno scorso criticavo un pieghevole con un software che ancora non era del tutto la pieghevole. Quest'anno non vi direi che la strada è fatta, il percorso è stato fatto. C'è ancora qualcosa che si può fare, ma è molto... L'esperienza d'uso per me è molto meglio rispetto a prima. Ah, un'altra cosa che voglio mostrarvi, un'altra novità, è il fatto che adesso si possono aprire più tab di Chrome oppure del browser di Samsung, aprendo in un'altra finestra, che tra l'altro è una funzione questa che secondo me arriverà ufficialmente con Android 12 e ci permette ovviamente di affiancarle anche nell'altro modo. Adesso io se vado a chiudere qui, il tab mi si ritrasporta, ve lo faccio vedere, eccolo qui, all'interno dell'unica schermata di Chrome. Bene, devo dire, veramente un software più maturo. Andiamo oltre e parliamo di S-Pen. Parliamo di S-Pen perché questo smartphone è compatibile con la S-Pen. Allora vado a prendere la mia bellissima Stadler S-Pen, veramente uno degli accessori più belli che io abbia mai provato, accessorio che ovviamente, vi faccio vedere qui accanto, funziona perfettamente su un S21 Ultra. Attenzione, quando l'avvicinate al display di questo Fold viene riconosciuta, quindi funziona, la tecnologia è quella, ma ci viene detto di non usarla e ci viene impedito proprio di usarla, anche se premo ok non me la farà usare. Perché? Perché può danneggiare il display. Questa invece è la S-Pen Fold Edition, che ha una punta che è leggermente retrattile. Non è qualcosa che io riesco a farvi vedere bene in video, ma quello che riesco a farvi vedere è che funziona. Funziona su questo Fold, nel periodo che l'ho usato non ho danneggiato il display con il suo utilizzo. L'esperienza d'uso è quella della S-Pen classica sugli altri dispositivi, ovvero quando voi arrivate qui vicino al display, se semplicemente sfiorate la punta o la tenete troppo inclinata, non viene riconosciuta. Vedete che se faccio così appunto non viene visto il movimento, ma questa è una cosa anche degli altri smartphone, basta veramente poggiarla e andare a fare un movimento più deciso che la S-Pen funziona correttamente. Qui abbiamo il solito tastino con tutte le funzioni, ovviamente possiamo andare a prendere una nota, e qui in questo caso posso mettere la nota full screen, posso andare a scrivere quello che voglio. No, la piega qui non si sente, o meglio se passate piano piano potete notarla, ma nella scrittura non si nota. Tra l'altro è un grandissimo lavoro perché i due digitalizzatori, esatto solo due, sono posti uno accanto all'altro e poi uniti al centro, ma nonostante questo nella parte centrale non c'è nessuna interruzione, funziona nella grande. Rimane come sempre la possibilità di raddrizzare il testo se scrivete storto, di convertirlo in testo, di andare a modificare post, per esempio un colore delle parti che avete scritto, per esempio per evidenziare altro, e ovviamente funziona tutto il resto, quindi potete fare una cattura schermo e poi andare a disegnare su quello che vi torna comodo dello schermo, potete scrivere dei messaggi animati con i messaggi live, vedere tutte le note, fare una selezione intelligente, ovvero screenshot della forma che volete voi, disegno R, traduzione, eccetera, eccetera. Insomma, funziona veramente come l'icepen che vi aspettereste. A schermo bloccato qui, adesso io premo il tasto, funziona anche questo, quindi la stessa funzione che avevate sul note. Altra cosa interessante, se siete in realtà ovunque, in realtà in qualsiasi modalità, voi con il doppio tap, con la pressione di questo tasto e il doppio tap, potete aprire una nota. Se siete in modalità flex, se siete in modalità flex, per esempio, state guardando l'ultimo video di Mark Brownlee, con un doppio tap nella parte inferiore, la nota si apre perfettamente nella parte inferiore. Questa è una piccolezza, ma secondo me è comoda. Insomma, un S-pen che aggiunge, secondo me, molto valore a questo smartphone. Questo non lo rende comunque, secondo me, un Galaxy Note, anche perché questa penna, dove la mettete? Non fate battute sconce, la mettete in questa custodina, ma poi dove mettete questa custodina? Boh, sì, c'è una cover, l'ho provata, guardate nell'anteprima, non mi piace, personalmente la trovo sgraziata e, insomma, non il massimo. Questa penna la mettete nel taschino, nella borsa, in tasca, nello zaino, dove volete. Il rischio di perdere rispetto a infilarla dentro un Galaxy Note, ovviamente, è più grande, c'è poco da fare. Non è un Galaxy Note, ma esattamente come S21 Ultra, eredita le sue funzioni e questo è un grande valore aggiunto, secondo me, assolutamente, un grandissimo valore aggiunto. Parliamo adesso delle fotocamere, cercherò di andare un pochino più veloce delle altre parti di questo video, perché? Perché sono le stesse fotocamere di Z Fold 2, tra le 12 megapixel, una stabilizzata otticamente f1.8, una f2.4 zoom 2x e una f2.2 grandangolare. Quello che cambia è il processore, lo Snapdragon, e quindi, di conseguenza, cambia anche il processore d'immagine. Secondo me ci sono delle differenze, quasi tutte in positivo. Andiamo ad aprire l'interfaccia della fotocamera. Ovviamente è sempre presente la modalità Flex, quindi potete poggiarlo così per utilizzarlo come stand. Ovviamente dovrete essere delle persone coraggiose, perché vi ricordo che, ok, che c'è la pellicola preinstallata, ma lo state comunque poggiando dalla parte dello schermo esterno. ci sono qui tutte le varie funzionalità. Se premete questo tasto, potete spostare l'anteprima qua sotto, se per esempio state utilizzando lo smartphone così, per fare una foto dall'alto in basso, comodo, e sopra, quando poi scattate una foto, andate a vedere la vostra anteprima, oppure fare così per invertire il tutto. Potete anche portare, accendere anzi un'anteprima sullo schermo esterno, così se fate una foto a qualche altra persona, un'altra persona si vede. Modalità grandangolare, modalità zoom 2x, e modalità normale. Ovviamente è possibile utilizzare la selfie camera da 4 megapixel, vedrete dopo nelle prove di scatto, che è una mezza schifezza. È appena sufficiente anche per le video call, ma devo essere sincero, anche nelle video call è un po' un peccato, è un po' quell'esperienza d'uso di quando si compra un MacBook da 3.000 euro, e poi c'è la webcam, quella scarsa, dei MacBook precedenti, ecco, l'esperienza è un po' quella, un po' quella, non dico di sentirsi presi in giro, perché va bene, è una video call, non è che dovete fare una presentazione al capo di stato, ma comunque, sempre un po' l'impressione che si poteva fare qualcosa in più. Tutte le modalità di scatto, eccole qua, ve le faccio vedere, sono tante, sempre assolutamente facilmente raggiungibili, mi piace sempre molto l'interfaccia di questa fotocamera, vi faccio vedere, prima di passare ai sample fotografici, cosa succede se aprite la fotocamera da qui. Ovviamente io ho scattato il 90% delle foto in questa modalità, perché è molto più comodo tenere lo smartphone così, se io attivo la fotocamera per i selfie, io qui mi vedo, se premo su selfie così, quello che succede è che mi chiede di aprire lo smartphone, poggiare le mie manacce sullo schermo interno, e farmi selfie sfruttando queste fotocamere qui, anche con la grandangolare, anche con lo zoom 2x, per vedere i vostri peli nel naso. Se uscite, tra l'altro, rimane avviata qui, è un po' una cosa così, poi voi lo chiudete, e tornate ad utilizzarlo. Questo per dirvi che queste sono le modalità d'uso, le stesse a grandi linee, dello Z Fold 2, ma come vengono le foto? Andiamo a vedere le foto scattate da questo smartphone, le foto vengono bene. Sono, come vi ho detto, più o meno le foto dello Z Fold 2 dello scorso anno, appena migliorate in alcuni contesti, identiche negli altri. Guardando le foto, capirete un po' quali sono le potenzialità di questa fotocamera, che secondo me sono molto elevate. Al buio, assolutamente usate la modalità notturna, la modalità automatica, secondo me non va a lavorare troppo sulla foto, che spesso viene un po' scura, un po' poco dettagliata, a volte sembra anche quasi un po' poco a fuoco, ma voi mettete la modalità notturna e assolutamente risolverete. In questa sequenza di foto che sto facendo passare, ne vedrete anche alcune con e alcune senza modalità notturna, da capire la differenza. Per quanto riguarda le selfie cam, grande comodità quella di poter usare le fotocamere esterne. Ovviamente non è il massimo della comodità, potete tranquillamente immaginare com'è reggere a lungo uno smartphone di queste dimensioni magari anche un po' con la paura di farlo cadere, ma è una possibilità sicuramente non da poco, in più c'è la modalità flex, insomma grandi possibilità offerte da questa flessibilità dello smartphone. Per i selfie, vabbè, le considerazioni le ho già fatte più volte. Non credo sinceramente che compro una Z Fold 3 che si preoccupi troppo dei selfie quando comunque può chiudere lo smartphone e usare sia la frontale da 10 megapixel, sia le principali da 12, ma dovevo comunque assolutamente andare a chiarirlo. Andiamo ad aprire Call of Duty Mobile e lo facciamo allora con lo schermo esterno, andiamo a girarlo così riusciamo a sfruttare tutta la dimensione di questo pannello. Eccolo qua avviato e approfittiamo per andare ad alzare il volume al massimo che devo dire è veramente buono. Le speaker sono questi due, potete coprirle con le mani, sì, ma rimane molto potente, se no fate così, lo ruotate al contrario e gli speaker vanno in alto. Vado ad abbassare il volume perché mi sto assolutamente assordando, multigiocatore, allenamento, ok, inizia. Ed eccoci qua, devo dire che giocare su questo tablet perché in molti contesti l'ho chiamato smartphone, ma voglio essere sincero, smartphone non è la definizione giusta per questo smartphone, tablet non è la definizione giusta per questo smartphone, quindi lo sto dicendo che era la definizione giusta e poi lo chiamo così, e anche fold, e anche phablet non lo è, pieghevole è sicuramente l'unica definizione. Pieghevole come ovviamente lo vedete, da un candy bar a una sorta di tablet, definirlo uno smartphone, un sostituto a uno smartphone normale, secondo me è sbagliato, anche perché l'esperienza d'uso è completamente diversa, è una tipologia di dispositivo completamente diversa. Ammazziamo qualche terrorista, purtroppo mi sono dimenticato di scegliere il mio lamerissimo fucile da cecchino, ma ecco qua, l'esperienza è quella che è, e se vi dovessi domandare dov'è la fotocamera frontale, sono sicuro che in questo momento sarete un po' confusi, non la trovate, giro lo smartphone, riuscite a vedere la fotocamera frontale, la fotocamera frontale in questo momento, eccola qui, se però lo tengo così, vedete quello che intendevo, ovvero voi vi focalizzate sulla parte centrale, e il foro della fotocamera non si vede più. Usciamo dal gioco, eccoci qua, sull'audio l'ho assolutamente commentato, e arriviamo a commentare la batteria, da 4.400 mAh, divisa fra le due porzioni di questo smartphone, vi ho detto che non è uno smartphone, ma ormai l'ho chiamato così in tutta la recensione, passatemi il termine, è appena più piccolo di quello dello scorso anno, per me l'autonomia è comunque promossa, nel senso che, secondo me, come l'anno scorso e anche come l'anno prima, dipende da come usate lo smartphone, se lo usate il 100% del tempo da aperto, ovviamente la situazione cambia, e secondo me potreste faticare un po' di più, arrivare a fine giornata, facendo un utilizzo misto, ovvero usandolo per tutte le cose che si possono fare da qui, con comodità, tranquillamente da qui, e poi aprendolo per le cose più importanti, a fine giornata, invece, ci arrivate, direi, tranquillamente. Ovviamente, la batteria non è gigantesca, ricordiamoci che molti top di gamma odierni, ormai, o almeno primi, hanno batterie fino a 5.000 e oltre 1.000 per ora, 4.400 non è così tanto, ma è sufficiente per il suo utilizzo. La ricarica rapida è a 25 Watt, purtroppo l'alimentatore non è incluso, c'è la ricarica wireless a 10 Watt, e c'è anche la ricarica wireless inversa, per poter poggiare sul retro i vostri gadget, o i vostri dispositivi compatibili C, con la ricarica C, e poi caricarli in questo modo. E siamo quindi arrivati alle conclusioni per questo Samsung Galaxy Z Fold 3, uno smartphone, un dispositivo pieghevole, chiamiamolo così, che non è mai stato pensato per tutti, non è uno smartphone per tutti. Non solo per il prezzo, che però è più basso rispetto allo scorso anno, si parte da 1.849 euro per il taglio da 256 giga, che è quello che ho provato io, rimane ovviamente un prezzo molto alto, ma non è quello l'unico scoglio per farlo diventare un prodotto per tutti. Semplicemente è un formato che non è pensato per qualsiasi tipo di utilizzo, ovviamente, ma superata questa doverosa premessa, questo Z Fold 3 mi ha convinto, soprattutto perché sprizza innovazione da ogni poro. Ci sono varie cose che, sinceramente, anzi tutte le caratteristiche principali, un anno fa non mi sarei mai aspettato di trovarlo in questo smartphone. Non tanto le caratteristiche principali, ma le novità, ovvero l'impermeabilità, il supporto all'icepane e la fotocamera sotto al display. Non sono le uniche novità, c'è miglioramenti ovviamente nelle performance, nel processore, nella pellicola fondamentale, nel display esterno a 120 Hz, insomma, ci sono vari miglioramenti, c'è il software di cui vi ho parlato molto bene, e quindi, il mio parere, non poteva che essere positivo. Non è un prodotto che consiglierei a tutti, ma questa è una banalità, perché già il prezzo e il formato fanno sì che, se non siete interessati, avete già ovviamente escluso la possibilità di acquistare questo Z Fold 3, per il resto, non mi resta che fare i complimenti a Samsung, perché è andata a migliorare un prodotto che già l'anno scorso aveva fatto un bel balzo in avanti, introducendo cose che, personalmente, anche solo un anno fa, non mi sarei mai aspettato di trovare all'interno di un prodotto del genere. sono riuscito all'ultimo, a non dire smartphone. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito ad iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche, io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito fino a qui, un saluto da Imamale Cisotti per AndroidWorld.it e Grazie a tutti.